Cosa fai di bello nella vita? Niente! Che vai? Niente! Come vuoi l'uomo ideale? Un uomo nudo con le mani in tasca ragazzi! Fantastico! Bene, facciamo una nuova moda! L'uomo nudo con le mani in tasca! Perfetto! Eccolo qua! Numero 18! Vai! E poi ho un messaggio per la numero 25! 25! Chi è questa donna? 25! Quando vedo Emi li metti in sé! Dov'è la 25? Ecco qua! Ok! Ciao! Sei tu la 25? Ciao! Come ti chiami? Nadia! Nadia da dove vieni? A Maranello! Cosa fai di bello della vita? L'uomo nudo! Mantenuta! Ma la mantenuta! È il più bel mestiere del mondo! Vai! Ma qua ce ne sono tanti di mantenuti! Ma è proprio la donna che è ricca! La donna che è ricca! Tu cosa fai? Ma io e te ci facciamo il culo! Dopo gli altri c'è ragione! Lavoro solo io! E te! Ah! Lei gestisce i guadagni della sua amica mantenuta! È un bel club il vostro! Ascolta! Come lo voleste l'uomo ideale? Ma io ormai l'uomo c'è già! Tra due giorni mi sposo! Anche questa! Tra cinque giorni si sposa! Capri! Ma dove ti sposi? A Massa Lombarda! Ah! Massa Lombarda! Conosco il posto! Sì sì! Bene! 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 O auguri figli maschi! Cosa ne è? Maschi no! Femmine! No! Figli no! Figli no! Ah! Dice già qualcosa! Infatti! Va bene! O io ti concedio questo messaggio! O valuta! È con cinque giorni di tempo! E due a Massa Lombarda! Eh! Certo! Come no! Nel settimbio più fatti eerste anche Bon approfante! Sì 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 sì